Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Francesco e io sono Martina, yuhuuu! Ed oggi siamo in un nuovo video di... Granny! Bene, allora è il secondo video che la Martina registra insieme a me, giusto Martina? Giusto! Bene, mi pare molto contenta? Sì! Gioca in easy, mi raccomando eh! Eh? Gioca in easy, mi raccomando! E ormai, vabbè, per il primo video gioco in practice! Nooo, no, 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 no! Sì! Ma perché devi giocare in practice? Perché devo imparare bene dove sono gli oggetti! Ma non dire cavolate che è un mese che giochi a Granny, non dire cavolate, ti prego! dai martina è un senti non mi dimenticare scuse ma io gioco come voglio vuol dire che sei sfigata io ti sto insegnando come giocare ma se giochi in pratica è solo che sfigata ragazzi comunque io vorrei dire questa cosa è utile fare questi due video perché magari se voi vedete io piuttosto che la martina fare delle cose che magari sono sbagliate che potete dare dei consigli sotto nei commenti su come giocare meglio passo 1 passo 2 è utile anche perché se magari vi interessa vedere la martina piuttosto che vi interessa vedere me potete vederle entrambi quindi noi scriveremo parte 1 martina parte 2 francesco o il contrario ma alla fine poi in base a quello che volete deciderete voi se guardate tutti e due o se guardare solo quello che vi interessa a noi non cambia niente basta che lasciate like commentate con hashtag granny hashtag granny la domanda di oggi è se preferite granny o blendrina hashtag granny hashtag blendrina beh ovviamente commentateci anche con quale gioco vi farebbe piacere che portassimo sul canale perché ormai i nostri giochi sono molto ridotti infatti sono sempre quelli che annoiano il tuo eeeh 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 ti sei? ti vedo molto silenziosa martina perché sono concentrata a far giocare? siiii è qua a giocare senza niente in granny ma per te ok quando pubblicherò i miei ultimi video martina morirai da ridere li devi troppo vedere eh martina mi raccomando i musici mi vedo tutti oh dio oh dio mi devi troppo vedere ma martina perché sono bellissimi durano tanto ma sono troppo belli sii ma io li guardo sempre tutti basta che li posti si si vabbè mi raccomando guardali comunque siiii questi ultimi due perché sono troppo belli che cazzo c'ha attiviamo lo so passapalati Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti